Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. C'è attesa per il nuovo DPCM che il Premier Conte renderà noto questa sera. Si valuta l'ipotesi di un coprifuoco generale a partire dalle 21. Facciamo il punto dei contagi anche nella provincia di Napoli a Torre del Greco. Un assessore della Giunta Palomba è risultata positiva al Covid. Sindaco e dipendenti sono in isolamento. Contagi in crescita anche a Dercolano e Castellammare. Oggi 2 novembre, commemorazione dei defunti con le nostre telecamere. Siamo stati al cimitero di Torre del Greco. I cittadini hanno accolto con favore le misure di sicurezza messe in campo dall'amministrazione comunale. Ora un'ampia pagina di cronaca. Weekend di controlli ad opera della Guardia di Finanza. Non sono mancate le sanzioni. I carabinieri di Castellammare hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. nei confronti di sei persone, tutte ritenute gravemente indiziate del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. E 16 albergatori sono stati denunciati ad Ischia per peculato. In chiusura lo Sport. Prova di forza per la Turris che in trasferta ha battuto la Casertana per 4 a 2. un risultato che consente ai corallini di restare ai primi posti della classifica. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. In arrivo un nuovo DPCM, coprifuoco alle 18 e lockdown a zone. Nel weekend, la curva dei contagi a Covid-19 ha raggiunto un picco che il Ministro della Salute e Speranza ha definito terrificante. Sia sabato che domenica, l'Italia ha superato quota 30.000 positivi giornalieri, mentre il numero dei ricoveri e delle terapie intensive cresce sempre più, gravando sull'intero sistema sanitario nazionale. Il Governo si trova quindi a dover adottare nuove misure per limitare l'incessante avanzata della pandemia. Il nuovo DPCM è stato annunciato per stasera, ma dopo una notte di accesi dibattiti fra Consiglio dei Ministri e Presidenti delle Regioni, è probabile che il decreto non vedrà la luce prima di domani. Sono comunque trappelati gli orientamenti dell'esecutivo. Quasi certa l'introduzione di un coprifuoco nazionale, con chiusura di tutte le attività dalle ore serali e limitazione alla mobilità, così come già avviene in Campania dopo le 23. Il braccio di ferro è sull'orario fra chi vorrebbe farlo scattare dalle 18 e chi meno drasticamente lo vorrebbe dalle 21. Discussa anche l'introduzione di lockdown locali. È chiaro da settimane che il Governo Conte voglia evitare a tutti i costi una nuova chiusura generale, pertanto probabilmente a chiudere saranno solo regioni, province e città metropolitane e comuni a rischio. Insomma, zone rosse a portata molto ampia. Per ora Lombardia e Piemonte sono le zone a più alto rischio, che quindi potranno subire una serrata totale. Campania e Liguria seguono immediatamente. Anche fuori dai casi di lockdown si potrebbero avere limitazioni più o meno serie, possibile chiusura ai bar e ristoranti anche a pranzo nelle zone a rischio, chiusura anche dei musei e limitazione di tutti gli spostamenti interregionali o intercomunali. Nel milino delle chiusure anche la scuola. Nelle aree più a rischio si starebbe pensando a estendere la didattica a distanza anche alla seconda e terza media, con obbligo di mascherina sempre per le lezioni in presenza, cioè alle elementari e in prima media. Il nuovo decreto ha visto la partecipazione di tutti i presidenti delle regioni, che hanno fatto presente le esigenze e le criticità dei territori. Nel weekend aumentano ancora i casi di positività in tutto il Vesuviano. A Torre del Greco, fra sabato e domenica, sono stati 30 i contagiati rilevati dal centro operativo comunale. Sale quindi a 331 il numero degli attualmente positivi, di cui 8 ricoverati con sintomi. Questa mattina è risultato positivo al tampone anche un membro della giunta comunale. Si tratta di una donna tra le new entry come assessore. L'intero esecutivo è adesso in attesa di tampone. Positiva anche l'ex consigliere comunale, Claria Gorga. Ad annunciarlo è stata proprio lei con un posto su Facebook. Sono a casa in isolamento e da due giorni con l'ossigeno, scrive. Si aggrava il bilancio anche a Dercolano, con 34 nuovi contagi fra sabato e domenica. Sono 425 i tuttora positivi. Tuttavia un breve sospiro di sollievo è stato tirato ieri con la guarigione accertata di ben 26 cittadini. Il sindaco Buonaiuto ha ribadito con un posto su Facebook la necessità di rispettare le misure anticontagio con il massimo rigore. 44 nuovi positivi anche a Bosco Reale, comunicati questa mattina dal sindaco diplomatico. Situazione gravissima anche a Castellammare, che sabato ha registrato 40 nuovi contagiati, arrivando ad un totale di 520 case attuali. Questa mattina il sindaco Cimmino ha voluto ricordare la commemorazione per i defunti con un pensiero speciale alle vittime del Covid-19, 5 in città da inizio pandemia, morti in solitudine. Drammatica invece è la situazione dell'ospedale San Leonardo. Il nosocomio stabiese ha dovuto convertire 8 posti letto di pronto soccorso, destinati ai codici rossi, in posti riservati ai pazienti Covid-19. Ieri mattina il caos, molte ambulanze sono rimaste ferme, fuori alla struttura, con a bordo i pazienti contagiati, in attesa che si liberassero i posti predisposti. Problemi anche al Covid Hospital di Bosco Tre Case, dove il 30-40% dei dipendenti, tra medici e personale sanitario, è risultato positivo. I contagiati verranno presto sostituiti, annunciato Gennaro Sosto, direttore dell'Asla Napoli 3 Sud. Abbiamo effettuato una revisione dei vari processi interni, continua, e nulla, né in termini di gestione del personale, né per ciò che concerne i dispositivi di protezione, lascia trasparire disattenzioni. Mattinata di visite al cimitero comunale di Torre del Greco, nella giornata della commemorazione dei defunti. Cittadini intervistati hanno accolto con favore le misure messe in campo dall'amministrazione comunale, che hanno permesso un accesso al cimitero nel totale rispetto delle norme anti-Covid. Grande lavoro anche da parte delle varie associazioni presenti sul territorio, impegnate nella gestione non semplice di queste giornate. Cittadini che hanno ribadito, inoltre, l'importanza di questa ricorrenza anche in un momento storico così delicato. Oggi, lunedì 2 novembre, ricorrenza dei morti. Come vive personalmente questo momento? Io sono dell'idea che oggi è doveroso venire a trovare i propri cari per una questione di cultura che ci hanno inculcato. Una situazione veramente particolare perché mi rendo conto che non riusciamo a rispettare quelle che sono le nostre abitudini, che poi ci legono in questo momento ai nostri defunti. E' pur vero che vedo che il Comune ha organizzato un percorso che mette in condizione le persone di rispettare quelle che sono le poche regole che ci sono rimaste. Purtroppo in questa situazione dobbiamo tutti dare una mano a tutti. Come vive lei personalmente questo momento? E' un po' triste perché è la giornata che te la fa vivere triste perché ti tornano in mente i tuoi cari. Una ricorrenza un po' particolare l'anno della pandemia Covid-19? E' particolarissima perché ci sta costringendo con queste mascherine che non possiamo respirare, non possiamo venire più di una persona insieme. Insomma fare visita ai nostri cari singolarmente perché non si può venire purtroppo in compagnia. E per quanto riguarda il rispetto delle regole c'è consapevolezza da parte delle persone? Gli assembramenti ci sono un po' dappertutto, non c'era bisogno di chiudere questi bar. Io non tengo nessun esercizio del genere, però mi immedesimo. Te lo posso dire napoletanamente? Poi è nato poco, morimmi famma. No, no, Covid. Anche se sappiamo che ci sono delle limitazioni, però è una giornata che ricordiamo i nostri avi e quindi praticamente anche se in un modo sfuggente così bisogna trovare i nostri cari. Per quanto riguarda il rispetto delle regole c'è consapevolezza da parte dei cittadini? La gente un po' finalmente ha capito e ha anche un po' di paura. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, durante queste giornate gli enti proposti si sono mossi bene? Penso che l'amministrazione si sia mossa abbastanza bene. Certo, le pecche c'erano, ci stanno e rimarranno a livello di altre cose, spazzatura. E' un po' approssimativa l'organizzazione, però diciamo si è cercato di fare qualcosa. Per me è stato buono così, così manteniamo più o meno le distanze. Oggi lunedì 2 novembre, ricorrenza dei defunti. C'è consapevolezza da parte dei cittadini, c'è il rispetto delle regole? Sì, stiamo rispettando adesso. Per quanto riguarda l'organizzazione comunale, gli enti proposti si sono mossi bene? Sì. In un momento storico così delicato, c'è consapevolezza da parte delle persone del rispetto delle regole? Ma io penso di sì, anche notando qui al cimitero che non c'è quell'affluenza di massa che c'era negli anni scorsi. Le persone non si sono affollati qua giù, infatti li vedo poi abbastanza diligenti, tutti con la mascherina, hanno fatto un percorso, c'è la febbre che ti misurano all'ingresso. Per cui penso di sì, c'è consapevolezza del problema. E' stato fatto quindi anche un buon lavoro a livello comunale per quanto riguarda la gestione dell'accesso al pubblico al cimitero? Ma sicuramente da quello che si vede sì, vedo anche forze dell'ordine, c'è l'autobulanza là, c'è molto volontariato in giro per controllo, c'è il percorso fatto bene. Io da quello che si vede penso di sì. Vedo tante persone con le mascherine, vedo che comunque bene o male le persone stanno distanziate. E non vedo da parte delle persone un non rispetto delle regole, diciamo. Per quanto riguarda questa ricorrenza, anche la giornata di ieri di ogni santi è un momento importante per la città di Dore del Greco? Sì, io penso di sì, perché comunque essendo che siamo in un paese in cui queste tradizioni sono importanti, sia la ricorrenza dei santi che dei morti, un po' per tutti è una ricorrenza che non può essere bloccata da questo virus. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo ai controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 391 persone e 62 attività commerciali, 8 le sanzioni anti-Covid complessive. In particolare, la compagnia di Torre è annunziata a tratto in arresto a Striano, 25 anni originario di tre case, sorpreso alla guida della propria auto oltre l'orario consentito all'ordinanza regionale, in quanto risultato evaso dagli arresti domiciliari. Anche la compagnia di Torre del Greco ha verbalizzato due cittadini italiani sorpresi a circolare all'1.30 di domenica notte senza giustificato motivo. Inoltre, il secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli, a seguito di una segnalazione, ha sanzionato nella zona rossa di Arzano il titolare di un bar e un cliente per l'inosservanza della chiusura disposta all'ordinanza regionale. Diversi anche gli interventi in concorso con le altre forze di polizia, finalizzati a disperdere assembramenti, come nel caso di una rissa verificatasi nel quartiere Vicaria del capoluogo, in un circolo frequentato da immigrati dove era in corso una festa ai cittadini di origine nigeriana. Inoltre, durante il weekend, come spesso succede, dai controlli anti-covid sono emerse anche situazioni illecite, tipicamente di interesse delle fiamme gialle. Grazie a questi controlli, il nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Napoli ha sequestrato a Poggio Marino oltre i 3.000 articoli di pelletteria, tra cui borse, portafogli e cinture, recanti, noti luoghi e marchi contraffatti. Costringevano ad acquistare abiti scadenti a prezzi maggiorati, sei arresti nel Vesuviano. Questa notte, in Castellammare di Stabia, Pompei, Algerola e Sanfele, i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei indagati. Tutti sono ritenuti gravemente iniziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il complesso delle attività d'indagine ha consentito di documentare una serie di estorsioni poste in essere dagli indagati, appartenenti tutti al clan gentile. Tramite minacce hanno costretto diversi commercianti e imprenditori dell'area dei Monti Lattari ad acquistare gadget pubblicitari, quali giubbotti e magliette dal valore irrisorio a prezzi fuori mercato. I soggetti, ben consapevoli dello spessore criminale dagli indagati, non potevano rifiutare l'acquisto dei gadget pubblicitari alle condizioni particolarmente gravose imposte, essendo anche costretti a comprare polo, maglie, smanicati e altro sia nel periodo natalizio che in quello delle successive festività pasquali. È significativo al tal riguardo l'acquisto da parte di un imprenditore della zona di 30 magliette a prezzo di 34 euro circa cada una. Al termine delle formalità di dito, due indagati sono stati associati presso la casa circondariale di Napoli, secondo Iano, uno presso cura di Melfi e restanti tre sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro per una montale di 760.379 euro nei confronti di 16 albergatori di Forio d'Ischia. La tenenza di Ischia ha verificato irregolarità commesse nel mancato versamento dell'imposta di soggiorno per gli anni 2018-2019 da parte delle strutture ricettive predette. I titolari non presentavano al Comune le dichiarazioni della tassa di soggiorno che invece riscuotevano e non versavano nelle casse comunali. L'attività investigativa e l'analisi della documentazione acquisita ha consentito la ricostruzione per ogni singola struttura dell'importo esatto spettante alle casse comunali. I gestori degli alberghi sono stati denunciati per peculato dato che con specifico riferimento all'obbligo di esigere e versare la tassa di soggiorno rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Prova di forza della Turris che disputa forse la miglior gara della stagione allo stadio Pinto di Caserta dove i corallini superano per 4-2 i padroni di casa della casertana e restano agganciati alle zone di vertice della classifica a meno 4 dalla capolista Ternana che però ha disputato una gara in più. Sono proprio gli uomini di Fabiano a portarsi in vantaggio con un gran gol di Giannone da fuori aria ma al ventesimo arriva il pareggio dei rosso-blu con Castaldo. Nel finale di primo tempo arriva il 2-1 Corallino con Romano. Anche nella ripresa non mancano le emozioni. Al quarto d'ora è Izzillo a trovare il nuovo pareggio della casertana ma la Turris si riversa subito in avanti e conquista il rigore che Franco trasforma portando il suo in vantaggio per la terza volta. Passano appena 4 minuti e il neo entrato Pandolfi siga il 4-2 che chiude praticamente la gara. I Corallini sfiorano più volte la quinta marcatura ma l'ultimo sussulto lo regala a Bagnale. L'estremo difensore a pochi minuti dalla fine si supera neutralizzando il penalty calciato da Castaldo vanificando l'ultimo tentativo della casertana di riaprire i giochi. La Turris così resta ancora imbattuta in trasferta e si prepara col morale alto al prossimo impegno in programma domenica prossima a Liguri contro il Potenza. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info o segnalazioni potete scriverci all'email redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti per la cortese attenzione.